Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi video a gran richiesta su quelli che sono attualmente, secondo me, i migliori super sub di FIFA 22, visto che con le ultime promo c'è stato un bel rimpolparsi dal punto di vista di fascio di giocatori che è possibile andare a prendere per far entrare e spaccare le partite, soprattutto con la promo degli honorable mentions, ovvero dei candidati toti che veramente ne ha sfornati a bizzeffe, ma senza perderci troppo in chiacchierate di ripassare subito a vedere questi giocatori. Primo giocatore che analizziamo è David Alaba, una carta veramente molto interessante perché parliamo di un difensore centrale di 1,80 m, piede sinistro, 3 di skill e 4 di piede debole. Il work rate è normale normale, quindi non di quelli proprio eccelsi, però il rapporto qualità-prezzo la gioca tutto a favore del difensore austriaco del Real. Infatti si tratta di un giocatore molto rapido, che ha un ottimo passaggio corto e soprattutto anche un ottimo passaggio lungo. 87 di agilità, 85 di equilibrio e 96 di riattività vuol dire che il giocatore con le L2 reagisce benissimo, è molto responsivo su quelli che sono i cambi di direzioni avversari. In più le statistiche difensive con quel 90 di intercettazione e il 91 di lettura difensiva lo pongono veramente al top tra i giocatori appunto della fascia retrata del campo. E poi il fisico, ottima l'elevazione, ottima la resistenza, magari un po' carente per l'aggressività, buona la forza con 85. Questo ve lo potete per me spendere in più zone del campo perché è vero che può essere utilizzato ovviamente DC, ma per me può essere anche posizionato sulla linea mediana quando magari bisogna andare a difendere il risultato. Quindi voi per praticamente 50.000 crediti vi portate a casa un giocatore molto versatile e che secondo me dà una mano a partita in corso. Quindi promossissimo David Alaba. Il secondo giocatore di cui voglio parlare è Kyle Walker. 1,83 m nella sua versione menzione d'onore anche per lui, alto alto, 3 di skill e 2 di piede debole. Quindi magari meno tecnico rispetto ad Alaba, anche con un body type un po' più importante rispetto all'austriaco. Però parliamo di un giocatore velocissimo, parliamo di un giocatore con dei buoni passaggi, con 83 di agilità, 81 di equilibrio, 87 di reattività, che ribadisco sono attributi che vengono penalizzati un po' dal suo body type. Però comunque si fa sentire in fase difensiva la maggiore forza e aggressività, soprattutto da parte del difensore inglese. E anche qua parliamo di un giocatore che può essere utilizzato un po' ovunque, perché in barba al fatto che quest'anno si era detto che i terzini DC non potevano essere utilizzati, perché sarebbero andati a vuoto, potete tranquillamente metterli DC perché invece non risentono minimamente del problema. Ve lo potete spendere chiaramente terzino, ma ve lo potete spendere anche medianazzo, qualora appunto c'è un'emergenza e avete bisogno di mettere un tappabuchi davanti la difesa. Anche per lui il rapporto qualità-prezzo è veramente strafavorevole, diciamo che per tutto il video cercherò di comunque portare giocatori che hanno un range che va dai 40 ai 100, 110k proprio massimo, visto che comunque 100k è un budget che adesso si può anche andare ad impegnare per eventualmente un super sub di livello che possa aiutarvi. Quindi tanta roba anche questo Walker che addirittura io stavo vedendo di posizionare titolare nel mio team. Terzo giocatore di cui vi parlo è Jordan Tezze, difensore olandese del PSV Eindhoven, 1,83m normale alto, 2 di skill e 3 di piede debole. Molto forte questo Tezze, io l'ho provato quando ho fatto la Weekend League a tema Masterchef e ne sono rimasto piacevolmente sorpreso. Infatti è molto rapido, ha dei buoni passaggi, è anche abbastanza agile con l'L2, visto l'82 di agilità, l'80 di equilibrio, ha anche una buona reattività, questo vuol dire che reagisce bene ai micromovimenti avversari, ha delle grandi stats difensive, un'altissima forza, magari pecca un po' dal punto di vista dell'aggressività, che però viene compensata quella statistica dal body type di questo Tezze che in game è molto presente, quindi anche quando entrate in contrasto, magari la gamba seppur la lascia un pelino indietro, vista la sua irruenza, riesce comunque a recuperare ottimamente il pallone. Lui però da utilizzare esclusivamente DC, non mi sentirei di andarlo a posizionare in altre zone del campo, soprattutto più avanzate, visto che non è proprio il giocatore più qualitatevole che potete andare a trovare, però per quello che costa ha promossissimo anche il buon Jordan da Super Sub. Successivamente, andando invece sulla parte un po' più alta del campo, ossia passando al centro campo, un giocatore che vi voglio segnalare è a Delta Rab, perché secondo me questa carta con i Winter Wild Card è passata un po' in sottotono, perché? 1,80m, normale, normale, quindi work rate che magari lo penalizza un po', però 5 di skill, 4 di piede debole, per una carta che è veloce, ha un buon tiro, ha degli ottimi passaggi, agilissimo, addirittura 90 e anche 90 di reattività, ha delle buone stats difensive tutto sommato, perché ha 77 di intercettazione e 77 di lettura difensiva, quel 74 che voi vedete in realtà è estremamente penalizzato da scivolata e precisione di testa, però anche i contrasti sono un ottimo parametro, ha poi addirittura 98 di aggressività, 81 di forza, quindi vuol dire che questo giocatore qua in mezzo al campo si fa sentire, e lo potete tranquillamente spendere sia da mezzala, ma anche da mediano, perché è vero che il normale normale un po' potrebbe lasciarlo passivo, però se voi utilizzate tanto uno stile di difesa manuale, questo qua vi rende veramente bene. Per quello che costa, io mi sento assolutamente di consigliare anche Tarab in questo elenco di super sub, così come mi sento di consigliare questo Luis Diaz, sul quale apro immediatamente una parentesi, infatti questa sua versione headliner rimarrà del Porto fino a quando il Liverpool non vincerà 4 partite di fila dal momento dell'arrivo di Diaz nel club, oppure prenderà un if con la maglia dei Reds, quindi non c'entra che il Porto ha fatto 4 vittorie, la carta rimane in questo stato di paralisi fino a quando non riceverà appunto un upgrade vestendo la maglia del Liverpool. Dicevamo poi, per quanto riguarda invece il rendimento, è un giocatore di 1,80m, 4-4, piede debole, stelle skill, velocissimo, dotato di un buon tiro, di un buon passaggio, agile, reattivo, magari pecca un po' per quanto riguarda il discorso di forza e aggressività, però fa all'esterno, voglio dire, ha anche un'ottima resistenza, questo ve lo potete giocare tranquillamente a destra per sfruttarne lo speed boost sul suo piede forte, o anche a sinistra per poter rientrare con il tiro a giro. Inoltre potete giocarlo anche da seconda punta, visto che comunque finalizza molto bene, è agile, si gira su se stesso nello stretto, quindi può dare veramente fastidio alle difese avversarie anche in quel ruolo. Altro giocatore super interessante, sempre della promo dei menzioni d'onore, è Lorenzo Insigne, perché l'altra versione che c'era di questo qui era una SBC che magari qualcuno di voi non avrà sbloccato, e questa carta non solo è più forte, ma è anche molto molto economica ed è scambiabile, è 4-4, piede destro 1-63, velocissimo, dotato di un buon tiro dalla distanza soprattutto, molto rapido con i passaggi, preciso, agilissimo, non ve lo dico neanche, 97 di equilibrio e 93 di agilità, 97 di controllo palla, 80 di resistenza, quindi può giocare in fascia, e comunque stiamo parlando di un giocatore che entra praticamente a partita iniziata e quindi non crea troppi problemi la resistenza, anche se arriva ai supplementari, e poi ha il tiro di precisione, quindi io lo giocherei esattamente come esterno a sinistra per rientrare sul suo piede forte che è il destro e sparare un famoso tiraggiro di Insigne che l'anno prossimo espadrerà in Canada, in bocca al lupo a Lorenzo se ci stai guardando per la tua esperienza canadese, ricordate degli amici, passaci un millino. Scherzi a parte, quindi promossissimo anche Lorenzo Insigne. Rimanendo in tema di Serie A, un'altra carta che ha destato un po' di clamore quando è uscito è questo verde, 5 di skill e 3 di piede debole, 1,68 di altezza, velocissimo anche qui con lo speed boost soprattutto, passaggi che lasciano un po' a desiderare, però agilissimo, 94 e 97 di equilibrio, 88 la resistenza, quindi anche meglio di Insigne. Anche qui abbiamo un giocatore che è estremamente versatile, che io andrei a giocare di più sul suo piede forte, quindi a sinistra per sfruttarne al massimo lo speed boost, le 5 skill gli donano anche imprevedibilità, potete utilizzarlo magari anche da COC, però quel 3 di piede debole potrebbe un pelino penalizzarlo, però essendo una carta gratuita questo verde è veramente stra-approvato e per me conviene che rimane nel vostro club anche solo per poi magari rivendervelo in futuro. Il buon David, questo è tipo il GOAT, raga, io faccio fatica a commentare una carta del genere perché non me la spiego, cioè è incredibile, alto alto, 3 di skill e 5 di piede debole, quindi una specie di butraghenio, velocissimo, uno speed boost che non avete idea, passaggi buoni, agile, 83 di reattività, nonostante è un po' di type strano, non si sente sta carta quando c'è la palla tra i piedi, è una trottola, a forza, a resistenza, è veramente un grandissimo player, lo potete giocare sia da esterno, sia da punta, in un attacco a due, proprio come giochereste un big header, un butraghenio, quindi che prende palla, si gira e spara i tiri, con il destro e il sinistro, quindi l'avversario non sa mai quale piede andare a marcare, e per quello che costa soprattutto è veramente straconsigliato, anche da titolare volendo, piuttosto che un big header per poter fare un po' di economia, vi prendete questo e investite i crediti che risparmiate in altri reparti. Concludiamo il tutto con Corona, che per me rimane assolutamente valido, infatti abbiamo un giocatore che è 5-5, piede destro, 1,73, molto veloce, con un buon tiro, buoni passaggi, agilissimo, 92 di resistenza, un grandissimo controtto palla, ha una buona freddezza, quindi anche Corona secondo me può essere interessante, visto che probabilmente è quello che può fare tutto, può fare l'esterno, può fare il cerci, può fare la seconda punta, e tutto quello che fa lo fa esattamente alla perfezione, visto che quel 5-5 veramente lo rende un player super completo. Quindi, ragazzi, per quanto riguarda questa top 10 dei migliori super sub è tutto, fatemi sapere nei commenti quali sono i vostri super sub preferiti, se tra questi c'è uno del video, in descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento, in particolare la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno, a me non resta altro che augurare una buona giornata, un saluto da Nari Beroski, ciao!